Perché alcuni hanno riconosciuto Gesù come maestro? Perché lo hanno ascoltato veramente con cuore spalancato? L'incontro con Gesù non è mai tiepido, morbido o senza sapore. È un incontro che implica un cambiamento, che stimola l'inizio di un cammino. L'esempio di Nicodemo ci invita a prendere decisioni, a superare barriere, ad andare oltre gli schemi preconfezionati, a mettere l'uomo al centro e ad ascoltarlo, come ci insegna il Vangelo, per conoscerlo e amarlo. Hai trattato con pregiudizio qualcuno senza ascoltarlo e conoscerlo realmente? Opponendoti agli schemi preconfezionati.